La partita è difficile contro una buona squadra, ci siamo trovati sotto inizio secondo tempo, la squadra ha reagito molto bene, abbiamo dimostrato una buona condizione fisica, abbiamo dimostrato di credere in quello che facciamo, è un buon inizio, rimane tutto da fare però è l'inizio che volevamo. Noi cercavamo di capire da questa partita a che punto siamo della crescita come squadra perché abbiamo fatto un precampionato con due amichevoli con squadre di categoria inferiore e la Coppa Italia secondo me è stata poco indicativa, aspettavamo delle conferme da questa partita, conferme che sono arrivate anche se c'è la consapevolezza di lavorare ancora tanto. Ma a me la squadra è piaciuta a tutti, se devo fare una menzione, due menzioni particolari mi sembra di doverlo fare per il più giovane che è Alberto Ferri che è entrato a freddo e ha fatto una buona partita e su Filippo Porcari che secondo me è un giocatore per il quale non ci sono aggettivi per descriverlo.